Grazie a tutti. Sino esercizi di analisi preventive e prescrittive. Le analisi descrittive sono le analisi di tutti i giorni, ovvero quelle tipiche dell'ABI per descrivere appunto i fenomeni che regolano il nostro business. Le analisi di tipo predittivo sono le analisi che utilizziamo per provare a predire il futuro e le applichiamo principalmente nel nostro ambito del business telematico e mentre le analisi di tipo preventivo e prescrittivo sono esercizi che stiamo facendo in ambito customer, più volte alla customer retention. Sì, abbiamo risultati misurabili, come tutti sappiamo l'Italia è leader nel mercato sicuro attivo italiano del business telematico, cioè delle black box e qui noi siamo leader in questo settore e siamo stati tra i primi a partire nel business telematico e in ambito pricing, assistenza clienti e analisi delle frodi e abbiamo dei risultati che sono mai misurabili da anni. Per fare un esempio, la profilazione dei clienti, quali risultati ha portato? Un esempio che posso citare, molto importante per noi, di profilazione clienti, rimanendo sempre in ambito telematico, è la profilazione che ci ha portato alla costruzione dell'algoritmo dello stile del guidatore. Questo è un algoritmo risultato molto importante perché poi ci ha portato a produrre il nostro prodotto di tipo behavioral, i classici prodotti pay e you drive, noi abbiamo un prodotto auto telematico che si chiama guida costile che ha appunto come obiettivo quello di avere una proposition nei confronti del cliente di tipo basata sullo stile di guida e non solo questo algoritmo permette a noi di capire se un guidatore è temerario piuttosto che prudente ma abbiamo anche tutta un'offerta, una proposizione nei confronti del cliente di tipo real coaching ovvero noi abbiamo un device che si fissa sul parabrezza fornito di sensori luminosi, quindi le classiche lucine e ogni mattina quando viene acceso il quadro il nostro cliente ha il cumulato del suo stile di guida quindi sa fino a quel giorno come ha guidato e ogni qualvolta invece in tempo reale ogni qualvolta ha una guida di tipo sportivo, fa accelerate brusche o frenate brusche noi lo avvisiamo con questi sensori luminosi, quindi vogliamo dare, la nostra ambizione è quella di dare consapevolezza al nostro cliente di come sta guidando e quindi dei potenziali pericoli a cui può andare incontro